In Consiglio Comunale si è discusso anche della Tari, in che modo? Si è discusso una modifica del regolamento della Tari, quindi dell'applicazione della tassa sui rifiuti che riguarda sia le imprese orafe sia le utenze domestiche. Per quanto riguarda le imprese orafe è stata determinata una riduzione della base imponibile in termini forfettari, quindi pari al 70%, che è quello che mediamente è considerato lo spazio all'interno delle fabbriche degli orafi che producono rifiuti speciali. Però è fatta, salva comunque la possibilità per gli operatori, quindi per gli orafi, di documentare una maggior quantità di rifiuti speciali e quindi accedere a un abbattimento più alto rispetto a quello forfettario determinato nel 70%. L'altra modifica invece riguarda le utenze domestiche ed è molto importante perché abbiamo risposto alle stanze di molti cittadini, per cui le soglie d'abbattimento, quindi la scontistica per le utenze domestiche funzionali alla distanza fra l'abitazione e punti di raccolta, è sì determinata come era prima in linea d'aria, ma è fatta salva la possibilità dei cittadini che hanno un percorso stradale più lungo di quello previsto dalle fasce di poterlo documentare. Quindi se un cittadino ha un percorso stradale più lungo rispetto alla linea d'aria e quindi può accedere alla scontistica, la può motivare e dichiarare all'amministrazione comunale.